ciao rieccoci sto registrando questo breve video qui dal parco morea di salerno per darti due novità molto interessanti la prima è che la seconda delle cinque villette è stata venduta una coppia giovanissima e simpatica mentre la seconda che probabilmente per te la più interessante che l'impresa ha dedicato degli sconti speciali per le ultime tre villette disponibili se sei interessato a scoprire di più nei dettagli puoi entrare nel sito di www.parcomorea.it oppure troverai semplicemente il link qui nel post ciao